E' stata proprio la colonna di fumo, alta e densa, che si levava questa mattina verso le 7.30 dal vivaio Gardenville, sulla strada Trossi, alle porte di Biella, a pochi metri dal centro commerciale Gli Orsi, ad allarmare alcuni automobilisti che immediatamente hanno lanciato l'SOS. E sul posto, per tentare di spegnere le fiamme, circoscrivere il rogo, numerose sono state le squadre dei vigili del fuoco di Biella, di Cossato, di Vercelli, i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118. L'incendio si è propagato ad una velocità incredibile. A nulla sono valsi le sforzi del lavoro, dei pompieri, tutto è andato distrutto. E per diverse ore sulla strada Trossi, in prossimità dell'incendio, la visibilità è stata ridotta a causa del fumo. Il traffico è risultato rallentato e temporaneamente sono state chiuse al traffico alcune strade laterali che collegano il vivaio. Presenti anche i tecnici dell'ARPA. Un settore del magazzino era riservato anche alla vendita di piccoli animali, che potrebbero essere morti nell'incendio. Le fiamme sarebbero proprio partite da questo settore, adiacente al magazzino, per poi coinvolgere il resto della struttura. I danni sono ingenti e nulla è stato salvato dalla violenza delle fiamme. Le origini di questo devastante evento restano ancora avvolte nel mistero, ma le squadre di investigatori stanno attivamente lavorando per identificarne le cause. Grazie.